Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video Perché ho questo tono un po' strano? Perché sono un po' emozionato nel presentare un nuovo tipo di video Ho deciso che voglio rinnovare il canale Che non voglio mettere sempre le stesse cose E oggi è il turno di qualcosa che farà correre un brivido lungo la schiena Sono veramente mesi che tengo da parte Questo argomento perché c'era sempre qualcosa che veniva prima Si tratta di un video paranormale Sulle 15 frasi più terrificanti dette da bambini e propri genitori Da quello che sto leggendo Saranno prese da Reddit Spero si pronunci così E sono già tradotte in italiano Per cui Un po' di atmosfera Iniziamo Mia cugina era seduta sul bordo delle scale In silenzio Ridendo divertita mentre guardava il soffitto Quando le chiesi Perché quelle facce buffe? Rispose La signora con le trecce intorno al collo sta facendo le facce buffe Pensando a nulla di preoccupante mi avviai alle scale Quando mi resi conto che April aveva detto le trecce intorno al collo Mi voltai chiedendo ad April di ripetere E lei guardò in alto dicendo La signora è appesa alla treccia e mi fa le facce buffe April iniziò quindi a mimare qualcuno che era rimasto senza fiato Una sera facevo la baby sitter E il bimbo più grande Circa cinque anni Venne verso di me con un disegno Guarda mi ha detto di disegnare queste immagini di lei Lei è sul soffitto e mi ha detto di dirti che è venuta per te Io e mia moglie stavamo insegnando a nostra figlia l'importanza di essere pulita nell'aria riservata Quando lei si girò improvvisamente verso di noi e disse Non preoccupatevi nessuno mi sta toccando Li hanno buttato giù la porta a calci Ma io ho resistito e sono morta quella notte E ora sono qui Facevo la baby sitter a mia nipote All'interno della grande casa di mia sorella Con grandi finestre si affacciavano sul patio nel retro Patio o patio In quel periodo la casa era immersa nella natura Tra altri alberi e prati ancora non edificati Prima che iniziassero a cementificare tutta la zona Erano le 10 di sera circa E mia nipote si avvicinò lentamente alla finestra Rapita dalla visione degli alberi Le chiesi quindi di venire a giocare sul tappeto Ma la sua risposta fu una domanda Li vedi zia Maggie? Chi dovrei vedere tesoro? La gente, la gente appesa agli alberi Una sera baciai in fronte mio marito davanti a mia figlia Ma lei improvvisamente sbottò Carina dice di smettere di baciarlo Lei ti ucciderà se non la smetti Dice che papà appartiene a lei Storditi, mio marito ed io ci guardammo l'un l'altro Mentre la bambina si allontanava L'ex di mio marito era morta tre settimane prima Il suo nome era Carina Mia mamma mi raccontò che quando avevo tre anni Mi fissavo spesso a guardare nel vuoto E un giorno mi disse Cosa stai guardando? Una bambina mamma Risposi Mia madre credeva ai fantasmi Lei mi chiese A chi somiglia? E io risposi Lei è bianca, poi è nera, poi è bianca e poi è nera di nuovo Mia madre fece qualche ricerca E apparentemente una ragazza era deceduta in un incendio nella stessa casa Era morta, bruciata Viva Quando ero bambino Mia madre mi raccontò questa storia quando ero più grande Andammo in questo vecchio palazzo In cui stavano facendo una sorta di vendita mobiliare C'erano un sacco di oggetti in vendita E mentre mia madre esplorava la casa Mi disse di sedermi e rimanere dove ero Accanto a me si trovava un tavolo con degli oggetti di cristallo E una signora mi disse di stare attento perché erano i suoi preferiti Quando mia madre tornò Mi chiese con chi stessi parlando E le dissi che ero con una signora Tornando indietro vedi un dipinto sul muro Mi fermai e dissi Guarda questa è la signora con cui stavo parlando La signora che gestiva l'asta Disse a mia madre che era impossibile Dato che la signora era morta qualche tempo prima E che era la proprietaria di tutti gli oggetti E spose Mamma voglio far esplodere McDonald Perché? Le chiesi E rispose Perché voglio vedere tutte le persone che corrono e bruciano Io Questa bambina o bambino non lo so La farei un attimino vedere Una volta mia figlia disse Mi ricordo che ho vissuto un'altra vita Vivevo in un edificio marrone chiaro Un giorno mi trovavo sul tetto a prendere il sole Poi qualcuno mi ha improvvisamente spinto dal terrazzo E mi sono spiaccicato a terra Quando mia figlia aveva tre anni Aveva un'amica immaginaria di nome Victoria Faceva le solite cose Parlava con lei Ci giocava Eccetera Prima di traslocare Mia figlia mi chiese Victoria vuole sapere perché non può venire E le risposi che doveva rimanere qui A giocare con altri bambini Mia figlia poi mi guardò E disse Victoria vuole sapere se non può venire Perché è brutta e ha un buco in fronte Rimasi paralizzata da terrore Una sera Stavo andando in camera mia sul fondo del corridoio Quando passando di fronte alla camera di mia figlia La sentì parlare con qualcuno Entrai e le chiesi con chi stesse parlando E affermò Sto parlando con il mio amico Il vecchio uomo con la barba bianca e la gamba traballante Poco prima che nascesse mia figlia Morì il nostro vicino di casa Che era un uomo anziano Con una lunga barba bianca Ed una gamba amputata Mio figlio corse da me In preda ad un pianto incontrollato Aveva un ginocchio sbucciato E il labero spaccato Quindi gli chiesi cosa fosse successo Io ed Anthony stavamo facendo una corsa Quando ho vinto lui si è arrabbiato E mi ha spinto Chi è Anthony? Il mio amico che vive sotto il mio comodino Il mio bimbo Di 5 anni Raccontava questa storia da quando ne avevo 3 Ricordo il mio ultimo papà E la mia ultima mamma Che sono morti E poi mi hai trovato Ero sul lato della strada E mi hai trovato Avevo una sorellina prima Ma è morta Durante un viaggio in auto Vedemmo del fumo E sentimmo il camion dei pompieri A correre in direzione di esso Allora dissi Ci deve essere un incendio da qualche parte Nelle vicinanze E mio figlio affermò Ricordo ancora il giorno in cui morì In un incendio Ultima storia Mamma La signora nella macchina bianca sta bene Non è morta Perché aveva un angelo con lei Un'ora dopo Accesi la tv E c'era un articolo Su una signora Con una Cadillac bianca Che cadde dal ponte di Portland Ma riuscì a nuotare fuori Riferì di aver visto Una luce Che brillava Aver rotto il finestrino E che la trascinò fuori Il personale dell'ambulanza Affermò che la signora Sarebbe dovuta A negarla Quindi Non ci crederete Ma la macchinetta Che era carica Si è scaricata Proprio nel momento In cui Io volevo farvi La domanda finale Siccome non ho voglia Di aspettare La fine della carica Vi chiedo Scusa se dovrete Sopportare Una registrazione Pessima Vi chiedo Cosa ne pensate? Credete In queste storie In generale Non solo In quelle che ho letto Avete avuto Esperienze paranormali? Se si Vi invito A raccontarmele Nei commenti Se siete Semplicemente Solo dei simpatizzanti Spero che comunque Questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo Al prossimo Video Grazie a tutti Grazie.